Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Come già annunciato nei giorni scorsi, l'alta pressione sta conquistando tutto il Mediterraneo centrale e con esso anche la nostra penisola. Le temperature saranno in rialzo ovunque, con punte anche di 32 gradi. Crescente è la sensazione di afa su coste e pianure. Bel tempo almeno fino al prossimo weekend. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 8 giugno. Al mattino, tempo generalmente soleggiato su entrambe le regioni. Al pomeriggio ancora cieli sereni ovunque, con qualche nube solamente nelle zone interne appenniniche. Alla sera nubi alte di passaggio, ma cieli per lo più sereni. Per quanto riguarda le temperature, esse si manterranno nella media del periodo, con possibili 30 gradi sull'arco ionico del Materano e sul Foggiano. Venti di maestrale sull'Adriatico che manterranno un clima fresco. Per quanto riguarda i mari, mosso l'Adriatico, poco mosso lo Ionio, calmo il Tirrino. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, vi mostriamo questa particolare foto che ritrae la tipica forma ad imbuto di un tornado, o meglio riconosciuta come tromba d'aria, immortalato due giorni fa nelle campagne tra Matera e Altamura. Non sappiamo che danni abbia potuto provocare, ma è certo che si tratti di un fenomeno raro per il nostro territorio. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattatici al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.